Radio Bruno Stasera giochiamo in casa Gianni, siamo a Bologna, siamo al Teatro Duse, un bellissimo luogo di cultura di questa città insomma giochiamo in casa un po' come una squadra di calcio che gioca in casa, no, di cuna a casa Non vincere per forza, no, delle volte si pareggia anche e si perde Più che altro quando si gioca in casa c'è molto calore, c'è molto affetto del pubblico e per certi aspetti è più bello ma si alzano le aspettative è così anche per te in questa maratona che ti vedrà ben 21 sere in concerto qui al Duse a Bologna Ma direi che dicono che nessuno è profeta in casa propria quindi io devo verificare quello che succederà però da quello che mi dicono le prevendite insomma viene un sacco di gente io devo dire che mi emoziono perché qui, io proprio qui su questo palco la prima volta che ci ho cantato è stato nel 1964 1964? Sai ti sembra di parlare? No, no In effetti sono passati solo 55 anni Solo 55 anni Eri un ragazzino, sei ancora un ragazzino, l'eterno ragazzo Il segreto di Gianni Morandi chissà se un giorno lo scopriremo No, no, questo non passa Il ragazzo c'era, c'era il ragazzo Ma oggi tutti quegli anni che sono passati me li sento Magari ti rimane la stessa voglia di comunicare con gli altri, di stare con gli altri, di cantare Però gli anni ci sono E com'era essere su quel palco, su questo palco nel 1964? L'emozione te la ricordi? Mi ricordo che mi tremavano le gambe perché questo teatro io non l'avevo mai visto Sai, la mia famiglia si era trasferita da poco da Monghi d'Oro Mio padre aveva aperto una bottega da calzolaio, da ciabattino, lì vicino all'Antoniano E quindi quella sera lui non venne nemmeno, tra l'altro, perché non aveva la giacca E quindi, però per me, insomma, ritornare qui e raccontare un po' del percorso di tutti questi anni Le canzoni, i viaggi, gli incontri Gli inizi, ma anche i vari momenti della mia vita A tornare a casa mia e a raccontarlo Insieme a una bellissima platea come ci sarà Insomma, è emozione veramente pura Tra l'altro, alla conferenza stampa di presentazione di questa serie di spettacoli Ne furono presentate 16 date Mi ricordo che tu, allora, hai detto Ma, insomma, ecco, speriamo di riempirle tutte queste serate E come se le hai riempite? Perché da 16 sono diventate 21 Quanto bene ti vuole Bologna, non solo? Ma no, ma forse è anche il teatro che è un po' una cosa che appartiene a Bologna La gente viene volentieri in questo posto Si crea un rapporto più particolare, più intimo Infatti lo spettacolo sarà fatto principalmente con un chitarrista, un pianista e un computer Però, ecco, credo che non mi aspettavo nemmeno io Che saremmo arrivati a 21 repliche Però siamo qua e vediamo Speriamo che non ci sia una delusione Insomma, che io riesca a divertire quelli che vengono Perché io poi questo mestiere lo faccio per gli altri Mi piace, ma lo faccio per gli altri in mezzo agli altri Come ci si prepara a 21 serate di concerto? Si va a correre al mattino? Certamente, correre fa sempre bene Fa bene proprio al fisico a tenersi un po' E poi scarichi anche le tensioni Però credo che poi le serate non sono consecutive Qui c'è una stagione di prosa molto importante E noi abbiamo inserito varie date Proprio all'interno di questo calendario già programmato E quindi non è poi così difficile Forse i primi tre giorni che sono consecutivi Vedrò se c'è ancora la voce com'è Sono tantissime le canzoni che hai cantato Se non sbaglio circa 600 Come hai fatto a scegliere la scaletta? Ci sono delle canzoni fondamentali Che hanno segnato i momenti più significativi Del mio viaggio, della mia carriera E poi vorrei anche aprire Una seconda parte dello spettacolo Con delle canzoni a richiesta Cioè cambiarle ogni sera E sentire la gente magari ha dei titoli Che io non mi immagino e cerco di ricantarli Quindi uno spettacolo un po' interattivo In cui ci sarà un po' di partecipazione del pubblico Io spero di sì Spero che succeda qualcosa di molto particolare Magari qualcuno anche sale sul palco Qualcuno racconta la sua storia Qualche ospite improvviso Qualche dedica speciale Qualche dedica Magari succede Viene la signora che dice Oggi sono 30 anni di matrimonio Ah bene, qual è la vostra canzone? Non so Non anche organizzi come giovanotti i matrimoni Pure tu Ma questa mi sembra troppo Tra l'altro accadrà una cosa molto speciale Su questo palco L'avevi detto Che avresti preparato un inedito Per questa serie di concerti L'inedito ci sarà È arrivato È arrivato Porta proprio il titolo Stasera giochi in casa Dello spettacolo A un autore davvero speciale Lo possiamo rivelare Questa è veramente emozionante Anche per me Perché Pensare che mio nipote Che ha 24 anni Paolo Paolo Antonacci Che è il figlio di Marianna E di Biagio Antonacci Abbia scritto una canzone Perché le cose sono nate un po' così Io Cercavo di scrivere Questo inedito Insieme anche ad altri musicisti Abbiamo provato Ma non riuscivamo a trovare Proprio la cosa rotonda Giusta E un giorno Io Paolo lo frequento Perché lo vedo spesso Abita a Bologna E gli ho detto Senti ma fammela tu la canzone Me l'ho detto quasi per gioco E lui Mi ha preso sul serio Un ragazzo molto serio Lui ha già scritto per Alessandra Amoroso Ha scritto per Ramazzotti Per Neck Per 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 Renga E diceva io ci provo Io sono rimasto un po' così Poi quando è arrivato Mi ha portato la canzone Come l'aveva pensata Devo dire che mi ha toccato Ed è Ed è una bella canzone Scritta veramente molto bene Tra l'altro Sentite anche cantare da lui Perché lui canta Non lo dice Ma canta anche un po' E quindi Spermessa Che tra l'altro sarà la prima canzone Che io canterò Nello spettacolo E quindi aprirò proprio la serata con quello Stasera Gioco in casa Apriamo proprio col botto emotivo Per te E per Per me sicuramente Il pubblico magari non conoscendo la canzone Dirà Si chiederà Cos'è sta roba E poi invece L'abbiamo sentita in anteprima L'ho sentita una volta sola Arriva subito È una ballata Insomma romantica Molto bella Poi sicuramente La potenza della scrittura Di un nipote Che insomma Immagino anche la mamma Ma credo Sapere dell'unione Tra il figlio E il papà Io delle volte Mi metto nella testa di Maria Dice ma con il mio figlio Scrive una canzone Per mio padre Cioè questo è il massimo Però Credo che non sia mai successo So So di figli Che hanno scritto Per il padre Per esempio Annacci Il figlio Ha scritto qualcosa Per il padre O altri anche Ma di un nipote Addirittura Che aveva scritto Per il nonno È difficile Io non mi viene in mente Anche a me Dicevamo che ci sono Alcune canzoni Che non possono mancare Un po' Vengono regolarmente Richieste Dal pubblico Ma Qualcuna delle tue canzoni Tu Ti stanchi A cantarla? Ma no Beh ci sono Dipende Ci sono delle canzoni Che canti in automatico Che vengono da sole Però se ti soffermi A pensare al testo Al momento in cui È stata incisa Al momento in cui È nata Beh ripercori anche tu Un po' Della tua vita Ti rivedi magari Trentenne Quarantenne Ventenne Eh Le canzoni Sono magiche Da un certo punto di vista Perché ti fanno Riportare proprio I profumi Di quei momenti Di quegli anni I primi amori Ci sono Nostalgie Malinconie Le porti anche sul palco Un po' Di nostalgia Malinconia Oppure No Il fatto di essere qui È una cosa magnifica Bellissima E quindi Essere ancora qui E quindi No Nostalgia No Anzi io Devo ringraziare Tutti Compreso il Padre Eterno Per avermi fare Fatto fare un viaggio Così Incredibile E Dicevamo Che forse Su questo palco Arriverà Qualche ospite Speciale Ma ci puoi anticipare Qualcuno Non si può dire Assolutamente niente Non lo so Tanti amici Tanti amici Già soltanto a Bologna Vivono Certo Se passano di qua Le porte del Duse Sono aperte Le porte del Duse Sono aperte a chiunque Venga a trovarmi Se vuoi venire un calciatore Del Bologna Piuttosto che Un giornalista Un attore Un Mio collega O di passaggio O di Bologna Magari Nasce qualcosa Di Così di Estemporaneo Questo è un po' Il clima che dovrebbe avere Questo spettacolo Niente Io Vi ringrazio Vi saluto Saluto tutti gli amici Di Radio Bruno Che sono anche Diciamo Siete amici Di questo progetto Radio Radio Bruno L'abbiamo sposato subito L'avete sposato E poi siete Insomma la radio più ascoltata Da queste parti E non solo Perché Emilia Marche Adesso arriviamo laggiù Anche ci allarghiamo Sempre di più Lombardia Lombardia Anche su Giù Di là Ovunque E quindi Io faccio i complimenti A voi che siete cresciuti tanto E vi aspetto Al Teatro Duse Grazie Gianni Ciao 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 Ciao